Gentili telespettatori, buona giornata. Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile sono ospiti della trasmissione Dritto e Rovescio del Debbio, Paolo del Debbio. Chi ha la mia età, 49 anni, o chi ha più della mia età, si ricorda assolutamente Vanna Marchi e Stefania Nobile e il mago di nascimento, il maestro di vita. Chi ha la mia età se le ricorda queste due donne nelle televendite, che hanno fatto la storia d'Italia e la storia degli anni Ottanta. Sono una parte importantissima del nostro paese, perché hanno segnato degli anni bellissimi che erano gli anni Ottanta, e la televisione commerciale, le televendite, telefonate, ultime venti telefonate, i centralini sono intasati, d'accordo? Bene, chi ha meno di 49-45 anni non ha propriamente vissuto quegli anni, magari era piccolo, magari aveva dieci anni, a otto, dodici, bisognava avere almeno vent'anni, diciotto anni per gustarsi gli anni Ottanta, i mitici anni Ottanta. Quindi c'è chi oggi gli parli di Vanna Marchi e ti dicono, oh sì, era una truffatrice, ah, buh. Invece di aver vissuto gli anni Ottanta, Vanna Marchi e la figlia, il mago di nascimento, li ricordati in un altro modo, anche in maniera nostalgica, perché Vanna Marchi ti ricorda gli anni Ottanta, ti ricorda la televisione di quegli anni, il boom economico, il montone, andare a sciare, vi ricorda proprio la gioventù. Bene. Quindi chi ricorda Vanna Marchi non la ricorda in maniera negativa, nonostante poi sia finita poi in galera, per truffa, truffa veramente organizzata, c'era proprio una macchina della truffa. Ma lei l'ha sempre detto, io sono stata la più grande truffatrice della storia italiana, sono stata la più grande influencer della storia italiana. E c'è un certo orgoglio criminoso nell'affermare, nessuno mi tolga il titolo di più grande truffatrice italiana. C'è l'onestà criminale, io sono stata la più grande truffatrice, nessuno dica il contrario. E allora le due donne, ospitele dal Debbio, dicono così, soprattutto la figlia, dice io non posso dimenticare una storia che fece Fedez su Instagram, dove sua moglie esce con questo vestito rosso e lui le dice wow, mi ricordi molto Vanna Marchi negli anni Ottanta. E lei ha una reazione contrariata. Ma era meglio essere associata a Vanna Marchi anni Ottanta o alla Vanna Marchi delle truffe? Ecco, la stessa figlia, come la madre, non è che negano noi non siamo truffatrici, cosa dite, condannate in maniera errata. La figlia dice, ma Fedez, dice la moglie, mi ricordi molto Vanna Marchi, ma specifica Vanna Marchi negli anni Ottanta, non sta dicendo, dice la figlia, non ti sta paragonando a Vanna Marchi truffatrice degli anni successivi, perché la Vanna Marchi truffatrice non nasce truffatrice, Vanna Marchi nasce come una grandissima venditrice, forse la più grande venditrice che l'Italia abbia mai avuto, la più grande nelle televendite, quindi Vanna Marchi nasce come una grandissima venditrice, ti vendeva qualsiasi cosa, poi quando comincia a fare soldi a palate entra nel vortice del denaro e ne vuole sempre di più, fino ad arrivare a una vera e propria struttura organizzata che truffava, centralinista, è proprio una vera e propria struttura dedicata alla truffa, per questo che è finita poi in galera, quindi c'è una Vanna Marchi anni Ottanta, leggenda, e c'è una Vanna Marchi anni Novanta che finisce in galera, c'è una Vanna Marchi del prima e una Vanna Marchi del dopo, e intelligentemente la figlia Stefania Nobile dice, ma come, tuo marito ti dice, mi sembri Vanna Marchi degli anni Ottanta, non ti sta dicendo la Vanna Marchi truffatrice, degli anni Ottanta, e tu fai la faccia contrariata, significa che non hai capito e non sai minimamente chi era Vanna Marchi. E questo è anche comprensibile, perché questi due ragazzi, Fedez e la Ferragni, è nato il 15 ottobre dell'Ottantanove, a fine anni Ottanta, io nell'Ottantanove avevo 14-15 anni, quindi mentre lui nasceva io ero nel pieno della gioventù negli anni Ottanta, li ho vissuti gli anni Ottanta, me li ricordo perfettamente. E se voi guardate la Ferragni, quanti anni ha? La Ferragni ha 36 anni, è nata nell'Ottantasette, sono persone che non sanno che cosa è stata Vanna Marchi negli anni Ottanta, magari si ricordano la Vanna Marchi, ma neanche perché non si ricordano la Vanna Marchi delle truffe, erano troppo piccoli. E questo vi fa capire che la coppia Ferragni-Fedez, lui ha fatto questo accostamento a Vanna Marchi, ma nessuno dei due ha vissuto la stagione e l'era delle televendite, c'era il baffo, c'era Vanna Marchi, c'era il baffo, questi televenditori avevano fatto soldi appalati e avevano poi anche fatto capire che le televisioni ti pagavano la maggior parte era tutto in nero, fatturavano poco e poi c'erano centinaia di milioni dati in nero. Ecco, questo è spiegato il fatto che Fedez e Ferragni non hanno vissuto gli anni Ottanta e la Ferragni non è riuscita neanche a capire la battuta del marito. Ma è come se a me parlassero di personaggi degli anni Settanta e io cadrei dal pero dicendo ma sì, non so. Ecco, è anche poi comprensibile la loro estranietà. Sono nati negli anni Ottanta ma non li hanno vissuti. Perché se tu nasci nel 1989, tu nasci negli anni Ottanta ma non li hai mai visti realmente. Grazie a tutti e arrivederci a presto.